I carabinieri della compagnia di Città Ducale hanno tratto in arresto una donna 50enne pluripregiudicata di origine siciliana responsabile di aver messo a segno nei mesi di aprile e maggio dello scorso anno diversi furti in abitazione e truffe ai danni di anziane donne della provincia ariatina ricavandone un bottino di 10.000 euro circa. La truffatrice seriale era solida a presentarsi nelle prime ore del mattino presso le abitazioni delle anziere vittime e dopo aver accertato che erano solo in casa si qualificava come un medico dell'asle con il compito di controllare la terapia farmacologica che seguivano ed i farmaci che assumevano. Avuto accesso in casa la finta dottoressa carpiva la fiducia delle anziane e le convinceva a riporre in una busta da lettera di colore giallo tutti i gioielli e il denaro contante che in quel momento avevano nelle loro disponibilità. Dopodiché invitava le anziane signore a collocare subito la busta in luogo sicuro che poteva essere un cassetto di un mobile della cucina o della camera da letto per poi riprenderla al termine della visita. Ottenuto ciò la malvivente senza farsi notare riusciva a impossessarsi della busta con il denaro gioielli che velocemente sostituiva con un'altra busta identica ma contenente solo dei pezzi di carta. Terminata la messa in scena la lata si allontanava dall'abitazione delle vittime che troppo tardi si rendevano conto di essere state derubate.